lasciala andare non ti fermare via 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 oh non ti fermare dai sei dentro dai veloce via giù vieni giù fino a qua fino a chiudi chiudi tutto dai fa niente non guardare gli altri dai 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 fa niente fa niente dai finisce però la impari perché sennò non impari più via via veloce quello devi saltarlo devi saltarlo cioè quando tu arrivi dal sasso fai questo vieni qua a fare questo qua salti qua e poi esce è già un bel passaggino devi farlo preciso hard come no non è esagerata è l'unico passaggio stupido è l'ultimo dal tronco vuoto uscire che è un po tecnico e basta le altre si fanno